Oggi Ragazzi si scherza veramente poco Siamo in mezzo ai grandi Ducati ufficiale con Rinaldi E Bautista, qui dietro potete Vedere il team GRT che sta Lavorando con Gerlof E compagnabella, quindi trovarmi in pista Con questi personaggi sarà Molto molto Interessante, dopo i test di Vallelunga Per darvi un'idea di riferimento con I tempi, qui l'anno scorso A Misano ovviamente abbiamo girato In 1,37 E 3, al primo test con Il bombardone V4R I nostri competitor hanno già girato nei giorni scorsi A causa pista sporca E altre cavolatine non sono andati fortissimo 1,37 alto 1,38 Niente di incredibile Quindi vedremo se anche oggi La V4S di serie ci stupirà Il bombardone 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 V4S è destinato a testare Il bombardone V4S di serie ci stupirà No ragazzi intanto Non avete idea di che figata è Essere in una situazione del genere Con tutti i team della Superbike Uscire e fare il lap di Shakedown con Bautista Mamma mia Alla tutta è un pochino rovinata Quindi mi sa che il turno prima Anche lui ha fatto una Scimolattina Classico la mattina Poi a Bisa non è in sinistra Comunque dicevo Incredibile Ma incredibile anche la sostanza I tempi che stiamo facendo Primo turno 38 basso Bam Fin quando va tutto così bene È tutto molto bello Anche a Vallelunga Che ci siamo divertiti Quindi l'importante È continuare così Abbiamo il buon Michael Ciao ragazzi Che qui C'è una leggenda Che narra Che qualcuno Qua dentro a Misano Faccia il curvone pieno E uno di questi sei tu Allora a me Quando me lo dicono Poi io entro pieno E poi mi trovano come con la HP4 Capito? La facevo in pieno Con la 125 Appuriamo che non si fa in pieno Con la Superbike Comunque con un 1000 Arrivi di quinta Limiti un attimino Togli il gas Parzializzi? Eh no Alleggeri Tutto un Perfetto di secondo Ma non lo fai Però fai la chiusura E poi gli errori dai Sì Esatto Tutto molto smooth Non bam bam Vedi se io mi fossi fidato degli articoli Che leggevo in giro Dei pieni No Eri in autostrada Che è lì di fianco Quindi adesso Entrammo in pista E vediamo Ecco mi metto dietro a te Il curvone E vediamo un po' Tu c'hai il Superbike Ci proviamo Ci proviamo Ci proviamo Dai In pista Ciao ragazzi 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 Fatturattina Però ragazzi Che giri dietro Nozane Kota Nozane Pilota del team GRT Yamaha Cioè Ero lì E dicevo Ma sto dietro A una Superbike Con una moto di serie Wow Bello Aveva la gomma un po' segnata Quindi probabilmente Ovviamente Era un po' in difficoltà Ma in ogni caso Cioè Parliamone ragazzi Bello vedere anche Le differenze Come loro Gli assoluto Ascoltare molto di più L'anteriore Che sostiene In maniera molto più decisa Con l'avantreno Di un superbike Che è incredibile Quindi devono Andare molto più Con i bar A centro curva Girarla da sec E darla a manata Invece noi Dobbiamo essere Un pelino più tondi E non possiamo portare Tutto quel carico In curva In quel modo E di fatti Mi sono steso Comunque ragazzi Consistenti 7-1 7 basso di passo 6 alto Bello 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 Ok Lì mi piaceva molto Perché riuscivo a fare I cambi Che può tra la 1 La 2 e la 3 E poi Quando la buttavo giù Mi voltavo E riuscivo a rialzare E dare gas Invece sono tornato adesso Un po' al punto Dove quando la rigiro Sono sempre Un po' Con l'anteriore Però anche qui Quando vado nella 2 Prima era più facile Tuttare la porta Tuttare il stretto E tagliare Adesso invece Sono sempre Perché la tiro Un po' io Qua quando vado appoggiare gas Subito Mi porta largo E mi faceva Quello discorso lì Dell'altro giorno Dove mi trovo Sempre sul cordolo Meno grip sul posteriore Ve la SC0 Però il grip era buono No A parte il grip Però questa cosa Era bello Era bello Che magari L'extra grip Del posteriore Ti innesca un cambiamento In quella fase Meno grip sul posteriore Meno grip sul posteriore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un bel passo avanti. Ma adesso vi faccio vedere una roba molto carina. Com'è possibile che io sia riuscito a staccare tutto e impennare? È una cosa che potete fare anche voi con la vostra V4. Noi non avendo appunto i blocchetti racing ci siamo inventati questa cosa qui. Abbiamo fatto tutte le mappe LS23A, LS23 e penna per fare lo scannellamento in monoruota. Quindi tutto bellissimo qui da Misano, guardate che tramonto. Nella prossimo episodio di A Racing Story saremo in gara. Non vedo l'ora ragazzi. Sono carico a pallettoni. Le buone premesse ci sono tutte. Questa sarà una grande sfida perché l'entry list che ho visto è veramente di altissimo livello. Quest'anno, e poi lo vedrete, ci sono almeno 10 nomi che possono vincere il titolo. Ve ne butto giù qualcuni. Riccardo Russo, Eddie Lamarra, Lorenzo Lanzi, Francesco Cocco, Simone Saltarelli, Gabriele Giannini, Fabrizio Perotti, Cristian Gamarino. Gente che ha fatto e vinto europei, mondiali, 600, 1000, 125 GP, insomma, disastro. Come al solito ragazzi, gas e ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi, sarà una stagione incredibile. Iscrivetevi, sarà una stagione.